Pensi che questa sia o può diventare la tua migliore stagione come numero di gol? No, sto facendo bene, la squadra fa bene e continuiamo, sono contento di mia stagione fino adesso e spero di continuare. La Juve pareggiata, adesso il Milan è a più 4, com'è essere passati dalla parte di quelli inseguiti, non più gli inseguitori? Non è ancora finito, manca tante partite, adesso un po' a vantaggio, ma ogni partita può succedere tutto. Per il momento siamo a 4 in più, ma manca tante partite. Allora oggi non ti arrabbierai con Allegri? Con chi? Con Allegri. Perché? Dopo la partita di Champions League eri un po' arrabbiato, oggi non ti arrabbierai. Ah, tu hai visto che eri arrabbiato? Così dicono, non è vero. Sì, ma dicono tanto anche, parlano tanto. Quindi non è vero? Sei uno di loro che parlano tanto. Oggi quindi sei sereno, sei felice? Sono sempre felice. Grazie. Grazie. Grazie.